eccolo ci sei ci sei nonno come aveva immaginato ha chiuso il telefono lui ha chiuso il telefono c'era mezza faccia rossa perché si è svegliato svegliato stava dormendo su una parte quindi tutto rosso da una parte suoni la batteria senti che suona non senti che c'è un rumore che fa boom 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 la batteria è lui che sta suonando si mi piace troppo suonare guarda è stata una settimana favolosa per per noi 20 gradi è sempre il sole quindi si adesso mette se pioverà oggi stanotte domani e poi domani si dovrebbe rimettere se il montello però ha fatto tempo meraviglioso oggi proprio caldo sono andato al mare io ah si è bellissimo un po' morto era bello bravo io sono andato a friggene ieri amarecchio io non ci andavo sono andato a friggene dentro ci sono gli stabilimenti ci sono tutti i ristoranti che si mangia il pesce buono ma è abbastanza dispendioso come si dice ah certo la gente io sono venuto via e l'uno a l'uno in quarto era pieno pieno di gente che andava di ristoranti d'inverno pure quando basta di essere già un po' discreto e gli ristoranti dei pesce li ci hanno che hai mangiato bene ha mangiato bene ma chi c'ha crea una crisi da tanto nuovo ho visto penso che ho visto tutti i fratelli su skype con il video abbiamo visto fabio e gianni stamattina e ieri ho visto giuseppe e laura e quando li ho visti ieri su skype con il video su skype con il video con il video con il video si ah 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 non metterlo in bocca io ho sentito no oh ehm gianni come hai detto ma mi ho sentito ieri no tu mi ho sentito ieri il telefono dice che è inaggiungibile ma è sempre che si deve ottenga il telefono lo so vabbè com'è ci diamo avanti hm si ce n'è molto vieni da papi vieni si sono molto occupato però diciamo che non mi posso lamentare troppo non mangiarlo quello il fiore non si mangia fuck non si mette in bocca ok puppy can't swear on video sorry gotta cut